Questo progetto che l'Ion's Club Mantua per Matilde propone in questo anno sociale riguarda, come è stato detto, il recupero e il sostegno a favore dei minori che hanno subito dei disagi anche psicologici a causa del lockdown. È un progetto che viene fatto in collaborazione con il centro ipico La Rotta di Pieve di Coriano e soprattutto c'è la sorveglianza dell'ANIRE, dell'Associazione Nazionale Italiana della Riabilitazione Equestre, che garantisse la qualità del progetto, le linee guida di questo progetto. Il cavallo è un cavallo addestrato per il recupero e per fare esercitazioni e per sostenere questo incontro con i bambini, con i minori, che trovano nel cavallo un amico muto, nel senso che il cavallo li trova, li accoglie e li accompagna nella loro esperienza. In questo momento ci sono 11 bambini che hanno diritto a questo progetto, segnalati dalle aziende sanitarie locali, dagli assistenti sociali e dai pediatri. I Lions hanno lo scopo, sia a livello internazionale che a livello locale, di soccorrere dove ci sono dei bisogni. Possiamo dire che siamo presenti in tutto il mondo, ma soprattutto localmente, ricordo che sono stati appena donati due ecografi all'ospedale di Pieve. E quindi anche qui, in considerazione dei bisogni che sono sorti dalla pandemia, abbiamo pensato di contribuire a questo service importante. Il cavallo riflette come uno specchio le emozioni di chi si avvicina a lui. Ad un cavallo bastano effettivamente pochi secondi per capire chi ha di fronte ed è capace di leggere i suoi stati d'animo percependo ogni dettaglio, positivo o negativo che sia. È un percorso di sei settimane e al momento siamo più o meno a metà di questo percorso, abbiamo ottenuto assolutamente risultati positivi. Il cavallo è un mediatore fantastico ed aiuta i nostri ragazzi, i nostri bambini a tirare fuori il meglio e si tratta proprio solo di riuscire a trovarlo dentro di sé. La pandemia ha avuto un impatto sul benessere psicologico di bambini e adolescenti per diversi fattori. Il distanziamento sociale, quindi l'impossibilità di stare con i propri amici, di giocare e soprattutto la mancanza di routine come quella di prepararsi per uscire e andare a scuola ha generato comunque un senso di precarietà e di incertezza che ha favorito un aumento dei disturbi d'ansia. C'è stata una propensione all'isolamento sociale, quindi anche quando era possibile uscire maggiormente c'è stata una tendenza comunque a restare nella propria stanza, usare maggiormente internet, mentre nei bambini si è riscontrata la presenza di comportamenti regressivi, quindi la richiesta di tornare a dormire nel lettone con la mamma e il papà, insomma la ricerca di un maggior senso di sicurezza. Sono peggiorati anche i disturbi del comportamento alimentare, quindi nelle ragazze con anoressia restrittiva abbiamo registrato comunque un significativo calo ponderale, un po' perché inizialmente non era possibile monitorarle costantemente negli ambulatori pediatrici, insomma perché non erano accessibili per l'emergenza sanitaria e un po' perché la stessa angoscia generata dall'emergenza sanitaria ha amplificato insomma la necessità per loro di controllare ossessivamente il cibo assunto e anche sono aumentati i bambini con obesità, questo perché già durante il primo lockdown c'è stato un incremento del numero di pasti giornalieri e anche il ricorso al cosiddetto cibo spazzatura, oltre all'aumento delle ore davanti ai monitor, insomma agli schermi, a fianco di una riduzione di tutta l'attività fisica e motoria. Pensare ad attività come quella dell'ipoterapia che comunque favoriscono nei bambini e negli adolescenti nuove routine legate appunto all'uscire di casa, al darsi nuovi obiettivi di socialità, di interazione con altri, diventa assolutamente terapeutico e importante.